Una giornata a Toceno per aiutare la piccola Natalia. Sì, una giornata nata in segna della solidarietà per la piccola Natalia insieme alla Proloco di Santa Maria Maggiore con la Proloco di Toceno e gli amici di Craveggia si sono uniti per dare un segno, una speranza a questa piccola bimba che purtroppo sta lottando con un male veramente brutto da sconfiggere ma noi ci auguriamo che ce la faccia.